Con il messaggio che Papa Francesco ha scritto per la giornata mondiale dei poveri che si celebrerà il prossimo 14 novembre. Chi non riconosce i poveri tradisce Gesù, scrive Bergoglio, che poi lancia un appello ai governi di tutto il mondo ad intervenire per arginare le povertà, specie quelle create dalla pandemia. Il servizio di apertura è di Luca Ciciriello. Con grande umiltà dovremmo confessare che dinnanzi ai poveri siamo spesso degli incompetenti. Si parla di loro in astratto, ci si ferma alle statistiche e si pensa di commuovere con qualche documentario. La povertà, al contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa. Sono le parole forti che Papa Francesco scrive nel messaggio per la quinta giornata mondiale dei poveri che ricorre il prossimo 14 novembre. Titolo del documento è I poveri li avete sempre con voi. Parole dell'evangelista Marco che stanno a indicare che la loro presenza in mezzo a noi è costante. E non deve essere abitudine e indifferenza, ma coinvolgimento e condivisione di vita senza deleghe. I poveri ci evangelizzano e spesso insegnano solidarietà e condivisione, scrive il Papa. Per cui la povertà non è frutto del destino, ma è conseguenza dell'egoismo. Non sono persone separate, categoria che richiede un particolare servizio caritativo, precisa Bergoglio. Non possono essere solo coloro che ricevono, devono essere messi nella condizione di poter dare. È quindi decisivo un cambiamento di mentalità, perché ci sono molte povertà dei ricchi, che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri. Con la pandemia poi sono aumentati a dismisura e purtroppo lo saranno ancora nei prossimi mesi. Perciò, scrive il Papa, se sono messi ai margini, come se fossero i colpevoli della loro condizione, il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. Infine l'appello, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui, dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza. È importante capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno nel cuore.